In questo video voglio dirti tutto ciò che devi sapere riguardo ai BES. Ho creato una tabella proprio per capire che cosa sono i BES e quali sono gli studenti con BES, che cosa fare, quali documenti redigere e quali sono gli step per la redazione del documento per i bisogni educativi speciali. Eccoci qui, allora i BES che sono i bisogni educativi speciali possono essere suddivisi in tre fasce. La prima fascia in cui troviamo gli alunni con disabilità ufficiale con certificazione, la seconda fascia in cui troviamo alunni con certificazione e la terza fascia dove troviamo gli alunni senza certificazione. Questa prima fascia che è gli alunni con disabilità ufficiale con certificazione è normata dalla legge 104 del 1992. È importante sottolineare che in questo caso c'è una certificazione. Che certificazione è? È una diagnosi funzionale che viene redatta da operatori ASL o da strutture private autorizzate dall'ASL e che viene poi aggiornata ad ogni passaggio da un ordine di scuola all'altro. Quindi se io sto passando dall'elementare, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, ho bisogno di aggiornare la diagnosi funzionale. Gli alunni in seconda fascia sono gli alunni sempre con certificazione perché vedete che qui c'è la certificazione e qui non c'è la certificazione. Sono normati dalla stessa legge, la legge 170 del 2010, solo che questi hanno una certificazione che non è una diagnosi funzionale perché ovviamente non sono disabili, non hanno una disabilità ufficiale, ma è una relazione redatta da un'equipa multidisciplinare, di solito in strutture come per esempio gli ospedali e c'è il neuropsichiatra, lo psicologo, diverse specialisti che redicono questa relazione indicando che l'alunno ha dei bisogni educativi speciali legati ad eventuali disturbi certificati, quindi disturbi per esempio specifici dell'apprendimento, dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, ADHD che si usa anche l'acronimo italiano DDI, cioè disturbo da deficit di attenzione per attività, DOP, cioè il disturbo oppositivo provocatorio, disturbo dello spettro dell'autismo e funzionamento cognitivo limite. Poi ci sono altre diagnosi ma diciamo che queste sono quelle più comuni che si trovano a scuola. Questi hanno una certificazione perché hanno una relazione redatta da professionisti della salute che certifica che hanno questi alunni, hanno un bisogno educativo speciale. Invece nella terza fascia abbiamo degli alunni senza certificazione, cioè loro arrivano a scuola senza una certificazione, senza una relazione redatta da un'equipe multidisciplinari, ma con dei bisogni educativi speciali dettati da due sostanzialmente aspetti. O una situazione di svantaggio, per esempio linguistico, pensiamo agli alunni stranieri che arrivano e non sanno bene la lingua, oppure arrivano da una cultura completamente diversa, hanno uno svantaggio economico, una famiglia in difficoltà economica, uno svantaggio quindi anche sociale, oppure delle situazioni di fragilità che può essere una fragilità emotiva, comportamentale e relazionale. Qui però non c'è una certificazione ed è questo che ogni tanto ai docenti manda un po' in tilt. Come si fa quindi a capire che sono dei bisogni educativi speciali? Beh innanzitutto con l'osservazione in classe e con la possibilità di parlare con i genitori e conoscere, soprattutto parlo per esempio per gli alunni adottati o per gli alunni che arrivano dall'estero, è importante parlare con i genitori, cercare di capire la loro storia, quindi magari compilare anche una griglia di osservazione nelle prime settimane per vedere l'aspetto emotivo, l'aspetto relazionale, l'aspetto comportamentale e se possibile anche parlare con gli ex insegnanti, magari del ciclo precedente, perché può essere utile, faccio sempre l'esempio, finisce la scuola primaria, inizia la scuola secondaria di primo grado, se c'è l'opportunità di parlare con l'insegnante che è la maestra della scuola primaria può essere utile proprio per rilevare quelli che sono i bisogni educativi speciali. In questo caso quindi non c'è una certificazione ma c'è l'attenzione da parte dei docenti che comprendono che quell'alunno ha un bisogno o più bisogni educativi speciali. Ma adesso andiamo proprio nel concreto per capire che cosa bisogna fare, che documento bisogna redigere. Allora nella prima fascia bisogna redigere il PEI, che è il piano educativo individualizzato, che viene fatto dal consiglio di classe entro fine ottobre ottobre. Il PDP invece nel caso della seconda e della terza fascia, che è il piano didattico personalizzato, sempre redato dal consiglio di classe entro fine ottobre. Perché dico fine ottobre? Comunque all'inizio della scuola sostanzialmente sono passate poche settimane, perché questo documento, questi due documenti, il PEI e il PDP, sono la bussola di orientamento fondamentale sia per la scuola, per il consiglio di classe, per orientarsi nella didattica e anche proprio a livello pratico sul come interrogare, come far svolgere i compiti scritti in base proprio al bisogno educativo speciale, ma è una bussola anche per i genitori e per l'alunno stesso che sa che cosa può fare e in che cosa per esempio è esentato. Quindi è importante redigerlo entro indicativamente fine ottobre, poi ci sono delle date specifiche, proprio da parte del consiglio di classe. Viene poi firmato dai genitori, quindi condiviso con i genitori e firmato anche dai genitori o nel caso in cui sia maggiorenne anche dal ragazzo. Quindi questo è importante sottolineare che questo è il PEI per quanto riguarda la prima fascia, l'UNI con disabilità ufficiale e il PDP, quindi per le due fasce. Come si fa a redigerlo? Allora in pratica il consiglio di classe che cosa fa? Di solito è il coordinatore che va nell'ufficio preposto dove c'è per esempio si tengono tutti i documenti legati alla diagnosi funzionale, alla relazione redatta, si studia i documenti che arrivano quindi le relazioni e le diagnosi funzionali e inizia a redigere il piano didattico personalizzato o il PEI. Poi lo condivide insieme al resto del consiglio di classe e vengono realizzati, vengono definiti quali sono gli strumenti compensativi e gli strumenti e le misure dispensative. Che cosa sono gli strumenti compensativi? Gli strumenti compensativi sono tutti quegli strumenti che compensano il deficit o la difficoltà dell'alunno. Faccio un esempio, un alunno può avere la possibilità di compensare la propria difficoltà nella memorizzazione o di usare un filologico attraverso l'utilizzo di mappe che può portare anche durante l'interrogazione, può visionare durante l'interrogazione. Questo è uno strumento compensativo. Una misura invece dispensativa, come dice la parola, è una misura che dispensa l'alunno dal fare una determinata cosa, che può essere l'essere dispensato dal leggere ad alta voce, nel caso per esempio di dislessia, oppure l'essere esentato dal fare determinati calcoli in matematica e via dicendo. Questo ovviamente è il singolo docente della classe per materia, in base al tipo di materia, che decide che strumenti compensativi e che misure dispensative dare al ragazzo e queste verranno tutte segnate all'interno del PEI o del PDP. Una cosa che mi preme sottolineare innanzitutto è la questione della terza fascia, che per gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo possono usare, gli studenti possono usare solo strumenti compensativi e non strumenti dispensativi. Una cosa fondamentale per fare chiarezza è la presenza dell'insegnante di sostegno e dell'eventuale educatore. Soltanto la prima fascia e non tutti gli alunni, perché dipende da caso a caso, possono avere, possono fare richiesta di un insegnante di sostegno e di un eventuale educatore. Tutto dipende ovviamente dalla diagnosi funzionale e dal tipo di disabilità, perché ci sono per esempio alcuni studenti in prima fascia che non hanno bisogno né dell'insegnante di sostegno né dell'educatore. Quindi l'insegnante di sostegno non c'è né nella seconda fascia, quindi non è che uno studente con DSA ha bisogno dell'insegnante di sostegno, assolutamente no, non è previsto e neanche nella terza fascia. Quindi l'insegnante di sostegno è previsto solo qualora ci sia un alunno con disabilità ufficiale. L'insegnante è un insegnante di classe, partecipa attivamente a tutti gli aspetti, quindi è proprio una degli insegnanti di classe e poi c'è la presenza eventuale di un educatore nel caso in cui sia rilevata l'importanza della presenza anche di ore di un educatore in classe. Benissimo, io spero di aver chiarito alcuni punti, magari scrivi qui sotto se vuoi approfondire alcuni aspetti e ovviamente come sempre vi invito ad iscrivermi al mio canale attivando la campanella in modo tale da ricevere sempre le notifiche dei video che posto e poi vi aspetto anche sugli altri miei canali social Instagram, Facebook e LinkedIn. A presto!